Trieste New York 1.50 è cominciata davvero, abbiamo appena finito, io e la mia compagna di viaggio nonché di vita, peggio per lei, Isa, abbiamo fatto il mio percorso, i primi 40 minuti di questo viaggio verso New York, di questo viaggio per Trieste, per contribuire a migliorare Trieste, per creare un premio di laurea per lo studente dell'Università di Udine che riuscirà meglio interpretare quello che è il titolo, ovvero Trieste al centro del mondo, Trieste senza confini, questo è il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo di Bavisela, 40 minuti oggi, primo allenamento, sotto il caldo, Isa, da morire, torrido, 38 minuti e 47 è una fatica boia, ma chi ce la fa fare ragazzi, Trieste ce la fa fare, giusto? Sì, New York. Trieste verso New York, esatto, alla prossima!